Boys, oggi andiamo a vedere un cacciacarri, il Su-100Y, lo abbiamo già visto molto tempo fa, però è da un po' che lo guardavo nel mio ramo sovietico e ho detto Va bene, mi hai convinto, scelgo te, un po' come i Pokémon, va bene Siamo in era 3, livello di combattimento 4.7, cannone da 130, rotazione torretta 7 gradi, verticale, meno 5.15, ricarica 19.2 Corazzatura, scafo e torretta, interessanti nonostante siano bassini, però vi assicuro che è in grado il carro spesso e volentieri di sopravvivere La canna viene distrutta facilmente, però rimetterci la canna sicuramente possiamo cederla in confronto all'intero carro Penetrazione, abbiamo fondamentalmente due proiettili, i PB46A che utilizzo io oppure i 46, penetrazione 202 fino a 158 a 2000 metri, 2 chilometri Abbiamo 6 membri dell'equipaggio per far funzionare tutto, mitragliere, pilota, artigliere, comandante, servente e servente Un tempo di ricarica abbiamo detto di quasi 19 secondi Massa 64, velocità 32 chilometri Abbiamo la possibilità di sbloccare in maniera efficace dall'era 1 all'era 4 498, 420 per quanto riguarda rispettivamente guadagno di esperienza e di crediti Ecco dove si trova il nostro Su-100Y, esattamente in questa zona del Tech Tree sovietico Direi che siamo pronti, andiamo a vedere qualche clip con questo cacciacarri sovietico Clip, gameplay, considerazioni finali Esatto Eeeh 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 L'hai sentito, vero? L'hai sentito E mo' devo ricaricare e sono... non serve a nulla Vai, 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 spara, spara C'è un altro, lo so, il Tiger Sembra un Tiger Non lo vedo Non ho neanche una V3 Ok, non lo vedo, non c'è Vai, 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 vai Va dietro? Porca miseria Eh, ho sbagliato Però non si può muovere Sappiamo che non si può muovere No, no Ok, vai, vai, vai Eeeh, la ricarica Mi frega la ricarica Non posso fare nulla Posso fare veramente poco Nooo Eh, lo so che è l'angolo di rimbalzo, eccetera Però, eh Speravo in una... Un po' di fortuna Ma il... Spara al cannone T-34 Spara al cannone suo Almeno lo metti fuori uso Perché sennò se spara... Eeeh Eccolo Vai, 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 vai Penetrazione completata con successo Vai Vai che ce la facciamo Non avere paura Porca miseria Sto ricaricando Sto ricaricando Sto ricaricando No, spara Bravo Eh, insomma Lui ha perso quel mezzo secondo No? Che a guardarmi Pulito, pulito, pulito Ce l'abbiamo fatta Hai visto? No Non ci voglio credere Non ci voglio credere Non ci si crede Queste bombe non mi piacciono Oh, ma che qua Veramente Assurdo Quello che sta succedendo Assurdo No, mi hanno cingolato Non vedo niente Sta crollando tutto ormai Crolla tutto Da dietro 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 di noi 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 Ma qualcuno che intervenga Qualcuno che intervenga Guarda Guardali che dormono Guardali che dormono Ma non ci si crede Non ci si crede Ma perché nessuno interviene Non interviene nessuno Non ci si crede Guardali Non vengono Tutti che muoiono Ma porca di quella Non buttare giù l'albero Che non vedo Ma guarda Allucinante Non ci si crede Vabbè Uh Eh Uh No Eh Ok Eh Figurati Non avevo dubbi Non avevo dubbi Aiutami Grazie Grazie Vai vai Spingimi Spingimi indietro Spara però Spara Fai tutto Su No È morto Il nostro compagno Nel tentativo Di aiutarci Però qua la situazione È veramente Tragica Una squadra Siamo tutti morti Possibile che non ci sia nessuno Possibile No 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 Non è possibile C'è qualcuno Sulla destra Che mi ha sparato E non l'avevo visto Potevo morire E non sono morto Ma è così Volevi fare questo? Vedete i colpi Che arrivano leggermente In ritardo Perché il ping Appunto È elevato Però Fatto sta Che ci siamo presi La kill Possibile che non va Nessuno dei nostri A Contestare Charlie Guarda Non c'è un carro Uno Che sia uno Vabbè Troppo tardi Troppo tardi Aspetta che vi copro io Ne è passato uno Dove vai? Scusami Non ho capito Non ho capito Dove stai andando Cioè ma ti pare Che noi siamo così Eh Cioè Qualcosa La sapremo Per fare No Ogni tanto Una hit La becchiamo La becchiamo Anche noi Qua c'è Il La guerra Più totale Avanziamo ancora Un po' Perché Non lo vedo Ce ne sono tanti Sono tutti davanti a noi Ti salva Devi Ti salva Devi Ragazzi Ma quanti Ce ne stanno Oh Ma che è Dietro questa casa Eh dai Dovevo prenderla io Porca miseria Dai Dovevo prenderla io Questa Non è possibile Eh Stiamo dominando Il nemico Però Vai vai Avanza 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 Distrutto Mo questi stanno A spawnare Capito Quindi Sicuramente Ci ritroviamo Davanti a breve Binocolo Ormai sono Proprio Lanciato Verso Serve una mano Serve una mano Ma ce ne sta un altro Vai No 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 E no Scusa Tu non puoi Non puoi fare una cosa del genere Non la puoi fare Non la devi fare Non la puoi fare Ma cosa fai Perché Proprio a me Guarda Guarda 800 giocatori Chi vanno a colpire Guarda Chi è che vanno a colpire Guarda Guarda quanti ce ne stanno Andiamo verso Charlie Diamo una mano a questo qua Davanti a noi Occhio Ci siamo Eh Il cannone si è sentito Ce ne sta un altro però Ce ne sta un Panzer Qualcuno Vai 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 Sta prendendo fuo Distrutto Ok Era un Panzer 4H Il cannone non delude Però alcune volte delude Come tutti i cannoni È un cannone Capito Andiamo Proviamo A prendere una posizione Un po' più Capito Oì Allora venga Che è uscito questo Il carro Incredibilmente Non ci si crede Assorbe Abbastanza colpi Ma non solo In questa circostanza Che è andata bene No Anche in altri clip Gameplay Eccetera Sempre che il carro Tutto sommato Resiste Al primo colpo Tra virgolette Molto interessante Aspetta 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 Perché sicuramente Qualcuno Arriva da questa parte Fammi dare un'occhiata Binocolo De pulito Sembra pulito E quel Sembra che non Va bene Uh Ho mancato Ce ne sta uno Ce ne sta uno Qua sopra No È lontano Eh Vabbè Non so se è quello Il punto Però per dire Ce ne sta uno Eccolo Si vede Che si sta muovendo Dai Ce ne sta un altro Cavolo Devo Guarda 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 Letzer 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 Eh Mo si ritira Perché Ragazzi Copritemi Oh Qua sta Sta proprio qua Eh Mo Arrivano in due Ma che cazzo No La torretta è distrutta No Qualcuno che mi dà una mano Il cannone è distrutto Eh Niente Questi non si muovono Questi non si muovono Te l'ho detto da un'ora Che sta là Eh Distrutto Wow Boys Wow Ottimo Nulla Non ce la facciamo Non ce la facciamo Perché quel tiger L'ho mancato dieci volte Tipo Eh Quindi nulla da fare No Ultimo colpo Proprio Ultimo colpo Guarda Sul filo del rasoio Ci siamo presi questa kill E ce ne stava un altro su alfa Ma non c'è più tempo Spesso e volentieri Non c'è il tempo materiale Per fare Molte kill 4 5 6 Kilo Non c'è proprio il tempo Perché poi O la squadra nemica O la squadra Alleata Vanno bene O male Eh Dipende un pochino La situazione Il livello non conta Soccorritore dei carri per due Colpo finale Veramente all'ultimo Secondo Ago Della bilancia 50.000 leoni Guadagnati E un po' di Esperienza libera Per l'unità successiva Il cannone Non delude La resistenza del carro È abbastanza Buona Ancora di più Se mettete 15 colpi Dei 30 disponibili Per Diminuire La probabilità di esplosione La probabilità di esplosione Della stiva Munizioni Rotazione Su se stesso Molto buona Velocità massima 32 Apprezzabile Retromarcia Da rivedere Tutto sommato Direi che il carro È davvero Interessante Guarda caso È sovietico Ragazzi Video terminato Io come sempre Vi ringrazio Per i like I commenti E le visualizzazioni E noi ci vediamo Con un prossimo gameplay Ciao